La beata Petronilla, nata dalla nobile famiglia dei conti di Troies, in Francia fu educata religiosamente. Ancora giovane ottenne di essere ammessa tra le suore clarisse del monastero di Provins, ove perfezionò le sue virtù, particolarmente la modesta, l'umiltà, la pazienza. Crebbe in un amore ardente e smisurato per il Cristo, nel sacramento dell'Eucaristia e per il crocifisso. Si preoccupò molto di edificare le consorelle più con l'esempio che con la parola e trasformò il monastero in un centro di efficacia apostolato, estendendo la sua azione benefica particolarmente per i peccatori, gli afflitti e i bisognosi. Per cercare in tutto e per tutto ciò che è più perfetto. A questa promessa serviva un impegno di rinnovamento continuo, cui si aggiunsero pene numerosi per incomprensioni, ma Petronilla vinse con la continua preghiera assistita da Dio con favori celesti di contemplazione ed estasi. Un monastero di suore clarisse, dedicato a San Giovanni Battista, venne fondato nel 1309 dal re di Francia. Filippo il Bello a Monselle Prince, Ponce Maxens, sarebbe Ponte Santa Massenza. Nella diocesi di Beauvalse, la costruzione del monastero fu però ritardata per la morte del re e solamente nel 1336 vi si stabilirono dodici moniche clarisse, venuti dai monasteri di Longchamp di San Marcello di Parigi e di Santa Caterina di Provence. Una delle suore venute da Provence era Petronilla, discendente della famiglia dei conti di Troiesse, che fu scelta come abbadessa e vi fu insediata solamente la presenza del re Filippo di Valos e dalla regina Giovanna di Borgogna. L'anno seguente, il 27 marzo 1337, fu consacrata la chiesa dal monastero ad opera del cardinale Boulogne. La nuova abbadessa formò un'eletta schiera di anime generose, votate alla perfezione serafica, eccelse per l'umiltà e la delicatezza verso tutte le consorelle, specialmente per le ammalate, mentre si faceva sempre più profonda l'unione con lo sposo celeste. Ma quante furono le lotte che dovette sostenere, soprattutto da parte del demonio, che tentò di gettarla nella disperazione, molte giovani seguirono il suo esempio e in breve il monastero di Monsel divenne cenacolo di anime lette. Dopo otto anni di saggio governo, Petronilla rinunciò al suo mandato per meglio prepararsi all'incontro finale con lo sposo celeste. Visse ancora undici anni di vita nascosta ed umile. Il primo maggio 1355 lasciò la terra per volare all'eterna festa del cielo. L'11 maggio del 1854 Pio IX concesso in suo onore l'ufficio e la santa messa. Salve, primo maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore. Naturalmente penso sia letteralmente inutile che si dedichi un video a San Giuseppe Lavoratore quando è possibile trovare ovunque materiale didattico e non con altri profili di appunto di conoscenza di questa giornata dedicata appunto ai lavoratori. Quindi a prescindere dal fatto che la festa di San Giuseppe Lavoratore non è solo una festa a livello cattolico ma una festa generica per così dare un giorno di dignità al mondo lavorativo. Quindi riassumere un pochettino il giorno dedicato a chi lavora sebbene essi siano lontani o vicini dalla chiesa. E' un po' come il giorno di Natale in cui lo festeggiano tutti. A prescindere da questo è stata mia intenzione appunto creare un video per Santa Petronilla, per la Beata Petronilla perché credo che alla fine vi siano due motivazioni abbastanza abbastanza fondate. La prima perché appunto la Beata Petronilla era una mistica quindi secondo me tutte queste persone che sono state a contatto con Dio nei secoli oggi si sono persi neanche nei calendari perché non vengono neanche citati minimamente ma appunto in quei siti in quei raggruppamenti dove si narra il santo del giorno o i santi del giorno quindi in maniera molto velata in maniera molto distaccata. Mi sembra giusto che chi è stato in contemplazione, chi ha visto Dio, chi ha parlato con Dio, chi ha fatto il volere di Dio direttamente possa avere un minimo se non di dignità almeno di conoscenza, di essere conosciuto un po' da tutti. Può essere il Signore che darà moto a queste persone attraverso i canali che noi mettiamo a disposizione per farli conoscere maggiormente. La seconda motivazione per cui penso sia necessario far conoscere la Beata Petronilla alle persone è questa sua volontà di cercare e ricercare sempre la perfezione in tutto in tutti e questo modello donarlo anche agli altri. Quindi la Beata Petronilla ci insegna una cosa molto importante e che naturalmente o abbiamo un impatto con la vita del Regno dei Cieli e ci crediamo o in teoria non ci crediamo. E' proprio l'Apocalisse stessa che ci allerta, che ci insegna e anche la visione di sua Faustina ci suggerisce che cosa sia il tiepidismo per il Regno dei Cieli. E' vero, il primo comandamento è quello che ci dice amerai il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la mente, con tutto il cuore e questo è il precetto. Naturalmente il precetto contrario è quello appunto del tiepidismo, quello di avere una vocazione religiosa da sé politico, quindi siamo tutti così concentrati a ricercare se non la perfezione, molte persone ricercano quella appunto quella via di mezzo, quella sufficienza per poter stare con due piedi in una scarpa, quindi avere la possibilità di vivere nel mondo in maniera un po' decente e comunque assicurarsi i beni eterni. La Beata Petronilla invece ci fa capire che è tutto il contrario, dobbiamo cercare la perfezione e la sua ricerca spasmodica alla perfezione la portava a avere un incontro intimo con Dio. Quindi da lì lei parla di rinnovamento. Ecco, quando noi parliamo di rinnovamento parla il Don Luca Roveda, colui che ha comunque fatto l'articolo, colui che ha redatto la biografia su santiviati.it, parla di rinnovamento. Noi oggi attribuiamo come rinnovamento il rinnovamento dello spirito, rinnovamento carismatico, tutte queste queste correnti. Lei invece per rinnovarsi appunto cercava e voleva la perfezione e quella perfezione lì appunto prescinde dal Vangelo. Diversamente il rinnovamento nello spirito prescindersi dal Vangelo ma ha una concezione molto, molto più, come potremmo dire, molto più non superficiale. Però c'è un rapporto con la Trinità, c'è un rapporto con, soprattutto con lo Spirito Santo, un po' troppo, come dire, confidenziale. Questo secondo me non è, non va molto bene. Quindi va bene comunque invocare lo Spirito, bisogna anche capire come lo Spirito poi agisca su di noi. E questo è importante. Quindi la Beata ci mostra la via giusta, ci mostra la consapevolezza che se noi vogliamo fare una cosa buona, come poi è parte del nostro io. Quindi quando noi abbiamo l'ambizione, quell'ambizione vogliamo portarla agli eccessi. Quindi vogliamo essere primi, vogliamo essere, arrivare al top, vogliamo raggiungere obiettivi veramente consistenti. Però molte volte appunto sembrerebbe che quando si parla di Dio, quando ci sono troppi impedimenti, come succedeva a lei, le cose iniziano un po' vacillare. Però noi abbiamo capito che appunto, laddove ci sono gli impedimenti, Dio sta lavorando per noi, perché il demonio sta lavorando il doppio contro di noi. Quindi è solo una questione di, come direbbe il mio sacerdote, è solo una questione di paragonare la nostra vita all'acqua. L'acqua è l'elemento più importante della terra, del nostro essere. L'acqua incontra un ostacolo e continua a caricare, continua a caricare, continua a caricare, fino a che comunque non trova un altro tipo di sbocco. Quindi la nostra vita sia sempre quello, portare avanti la nostra volontà, sempre e comunque, nei nostri limiti, sempre e comunque, ma agire sempre nella volontà di cercare la perfezione, nelle nostre imperfezioni. Potrebbe essere anche un gioco di parole, ma in realtà è la nostra vita, la nostra vita è quella di essere stati creati, esseri imperfetti e siamo imperfetti. La perfezione nell'imperfezione sta nel capire e nel comprendere che possiamo ogni giorno essere migliori. E già il fatto di essere migliorati un giorno con l'altro, anche di poco, ci fa capire che siamo veramente persone che non hanno dei limiti e che possono veramente essere una risorsa non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Grazie. Grazie.